buon pomeriggio oggi ho il piacere di avere qui con me in videoconferenza uno degli artisti italiani più amati e seguiti sto parlando di robbie facchinetti buon pomeriggio robbie buon pomeriggio a voi buon pomeriggio a voi e grazie per il vostro invito grazie a te robbie per aver accettato e intanto voglio sapere come stai ma guarda ultimamente quando mi chiedono come sto in questi ultimi giorni rispondo sempre benissimo perché mi sono stancato di cadere sempre nei questi luoghi luoghi comuni che sono comprensibilissimi però devo dire che se penso oggi a un anno fa no proprio in questi giorni non posso che dire benissimo perché l'anno scorso era veramente molto molto dura e allora guardiamo avanti e nel frattempo le cose sono migliorate sappiamo come affrontare questa brutta bestia è arrivato il vaccino che sta facendo il suo lavoro lo voglio sperare e che ci porti prima possibile fuori da questo delirio e allora cosa posso dire come stai benissimo perché non può che essere così esatto e poi magari proprio in questi periodi ci si accorge magari delle piccole cose a cui prima non davamo peso che invece adesso iniziano a diventare importanti io prima di cominciare la nostra chiacchierata volevo partire con una curiosità quando e come nasce in Robby Facchinetti la passione per la musica che poi diventerà la sua professione per oltre mezzo secolo? Vada sono grazie a mia madre mia madre mio nonno era musicista compositore per cui sicuramente il DNA della musica l'ho sicuramente ereditato da lui che mia madre amava la musica in un modo incredibile e ascoltava sempre musica classica musica operistica sono cresciuto ascoltando continuamente 28 ore al giorno la musica per cui ho capito che cos'è questo linguaggio che non è un linguaggio che cos'è questa energia perché la musica è realmente energia e a sei anni ho cominciato a imparare il solfeggio avvicinarmi alla musica prima alla fisatmonica perché era uno strumento più immediato all'epoca e poi dopo un paio d'anni cambiai iniziai a studiare pianoforte e lì è iniziato realmente il mio percorso musicale però diciamo che questo DNA sicuramente l'ho avuto da mia madre e in conseguenza mio nonno insomma amavano moltissimo la musica e niente tutto qui poi è lì è iniziato il mio percorso e le prime band fino a arrivare a prodare poi al famoso locale di Bologna, al famoso Sporting Club che ci fu un incontro con i Poo che erano nati veramente da pochissimi mesi, da tre mesi avevano appena fatto il primo 45 giri e mi chiesero alla fine, noi eravamo il gruppo base e loro invece la trazione e mi chiesero se volevo entrare con loro e capì immediatamente che era arrivato per me il famoso treno che bisogna assolutamente non perdere che bisogna assolutamente salirci immediatamente e così fu E poi appunto quel treno che vi ha portato in lungo e in largo per il mondo ma veniamo invece al presente, è uscito da qualche mese il tuo album da qualche giorno invece da un mesetto il tuo terzo estratto appunto dell'album dal titolo Cosa lascio di me, cosa lascio di me tratta appunto dall'album inseguendo la mia musica, ecco cosa ci puoi dire del singolo e invece come nasce l'idea dell'album, quali sono le novità? Guarda, l'idea dell'album nasce, è nata l'anno scorso guarda, proprio in questo periodo dopo che abbiamo fatto io e Stefano rinascerai per il successo imprevisto straordinario perché è arrivato in poche ore il video, quel brano arrivò veramente in ogni angolo del mondo e proprio dopo aver assistito a questo successo, ripeto, incredibile mi è venuto voglia di fare un album, innanzitutto un doppio CD dal vivo che fortunatamente io avevo inciso durante il mio tour inseguendo la mia musica dell'anno prima, del 2019, però non finiva di piacermi fino in fondo perché avendo fatto Rinascerò Rinascerai, desideravo fare qualcosa di più di avere sì il mio passato come compositore rappresentato da questo doppio CD live ma qualcosa anche di attuale e così è stato, mi sono messo a lavorare sono nati oltre Rinascerò Rinascerai, oltre quattro inediti tre dei quali Stefano fece il testo, appunto anche Rinascerò Rinascerai, Fammi Volare, Invisibili adesso c'è un quarto testo che ho già fatto il video, che uscirà probabilmente fra un mese che si intitola L'ultima parola e questo è il terzo singolo che è uscito da ventini di giorni fa, il video di Gaetana Morbioli lo voglio dire perché ha fatto veramente un capolavoro di video che si intitola appunto cosa lascio di me cosa lascio di me è un desiderio, una voglia di capire che cosa lascio che cosa posso aver lasciato nel cuore delle persone della mia vita a partire dai miei genitori ai miei figli e ora ho anche i nipoti, la compagna della mia vita, mia moglie i fu che hanno fatto parte veramente, completamente, pienamente della mia vita per cui questo video è rappresentato da cento fotografie di altrettanti personaggi che come dicevo che fanno parte della mia vita perché noi ci preoccupiamo sempre delle persone che conosciamo e tendiamo a giudicarli nel bene e nel male ci piacciono, non ci piacciono, ci emozionano tu sei la donna della mia vita tu riesci veramente a farmi sentire un uomo straordinario tu mi emozioni oppure no, mi sei antipatico, si impazzi, litiga spesso con le persone perché no, c'è sempre, c'è sempre, capita anche che ci sia del contraddittorio e di solito noi ci poniamo così nei confronti delle persone della nostra vita ma quasi mai ci preoccupiamo di quello che noi lasciamo realmente nel cuore, nella mente, nelle persone della nostra vita è difficile che tu abbia chiesto a un tuo caro amico o un amico della tua vita o la donna della tua vita abbia chiesto col cuore in mano senti, io vorrei sapere realmente che cosa rappresento io per te che cosa ti lascio, cosa c'è dentro di te che in qualche modo è roba mia che parte di te io, in quale parte appartengo dentro di te è difficile e ritengo invece che sia importante ma non per una sorta di compiacimento o di farci dire, perché c'è anche un po' di questo questa domanda non si tende a fare perché magari come dice guarda, vuoi che ti dica la verità tu e lì magari devi senti dire le cose che non vorresti mai sentiti dire no, invece onestamente, liberamente perché noi quello che possiamo provocare nei confronti degli altri pienamente, profondamente io parlo ad esempio, non so, con i tu o con mia moglie che ho vissuto, ho mai oltre 30 anni che siamo insieme ma io ho la pretesa di conoscerla quasi un po' più io di lei ma perché? ma perché quando parla io vedo gli occhi come si muovono la bocca, la faccia, l'espressione lei no e gli occhi, l'espressione del viso mediamente, non mente o semente riesci a capire anche questo esatto e allora questo processo di analisi per capire realmente che cosa arriva di noi nel cuore degli altri credo che sia molto importante certo certo che dobbiamo cercare sempre di lasciare il meglio di noi no? come spero e mi auguro che gli altri riescano in qualche modo a lasciare il meglio di loro del loro essere nei confronti delle persone che magari hanno un rapporto anche importante io sono convinto che se noi avessimo questa tutti questa consapevolezza viveremo sicuramente nel mondo migliore è un po' questo la filosofia del brano esatto e poi diciamo che permettimi di dire è stato anche un regalo per l'Italia intera non solo per chi ti segue ma proprio per l'Italia intera perché quest'ultimo è uscito a settembre quindi proprio quando è iniziata la seconda fase della pandemia ci sta accompagnando gradualmente come dicevi tu fra un mese usciva un altro singolo in tutti questi mesi magari un po' bui dove magari è proprio la musica che può aiutarci tu tra l'altro sei di Bergamo una delle città più colpite da questo terribile virus quindi chi meglio di te può capire un po' quello che sta accadendo ma guarda io devo dire che la musica ha avuto veramente un grande ruolo in questo in questo periodo triste brutto doloroso veramente forse il ruolo più alto ha aiutato sicuramente a superare meglio i momenti difficili la musica è indiscutibilmente può essere la medicina migliore ritornando rinascerò rinascerai sai quante persone che erano negli ospedali direttamente o indirettamente mi hanno fatto sapere che ascoltando il brano rinascerò rinascerai che è un inno alla vita è un inno alla speranza e mi scrivevano appunto che ascoltando questo brano per loro era la migliore medicina e la musica ha e deve avviare questo e è in effetti ripeto come ha avuto in questi mesi in questo anno ormai stiamo entrando nel secondo anno un ruolo veramente importantissimo e guai se non fosse stato fosse stato così difatti io ti dico semplicemente questo non sarebbe mai nato rinascerò rinascerai se non avessi vissuto come dicevi tu prima perché la nostra città Bergamo ha ancora questo record negativo oltre 6.000 morti è stato veramente realmente una cosa devastante ed è nato di conseguenza questo brano non sarebbe ripeto mai nato non sarebbe probabilmente non sarebbero nati neanche gli altri quattro inediti probabilmente non sarebbe neanche nato il mio album live doppio cd live per cui c'è stato veramente il bisogno bisogno di ascoltare musica di vivere la musica ancora meglio non di sentirlo ascoltare di viverla perché la grande differenza sta proprio in questo di avere la capacità di diventare un tutt'uno con la musica e allora la musica ecco lì devo dire che riesce a fare dei piccoli miracoli esatto attualmente la tua musica la stiamo potendo vivere solamente diciamo tramite il digital tramite il ruolo del digitale quindi nei computer o nei digital store quando invece cosa c'è nel futuro di Robby Facchinetti magari non appena si è finita questa pandemia è previsto un tour o a cosa stai lavorando ma certo vorrei dire che questo mio progetto musicale sono mancati i negozi sono mancati i store mancato il film a coppie che per il mio pubblico per quella che è la mia storia sono veramente molto 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 importanti per cui io spero che si possa recuperare qualcosa perché è un bel modo anche per incontrare il mio pubblico ed è ripeto molto 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 importante quello che sto facendo adesso oltre che promuovere sempre questo mio progetto musicale è di cercare di portare sul palco e avverrà quasi sicuramente il prossimo anno nel 2022 questa opera che si intitola appunto Parsifal che io e Stefano abbiamo avuto veramente la possibilità di concludere quest'opera e portare il nostro Parsifal il Parsifal dei Pu di 12 minuti adesso è un'opera completa e dura due ore nel frattempo ho conosciuto dei compagni di viaggio che si sono innamorati di questo progetto che in realtà io la chiamo opera ma è qualcosa di di diverso perché verrà rappresentato in un modo molto 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 innovativo assolutamente nuovo e diverso e anche per questa ragione che sarà un percorso molto molto speciale soprattutto per chi verrà a vedere quest'opera che che parla di questo personaggio fantastico questo cavaliere senza macchia Parsifal già il titolo è importante il re Artù la tavola rotonda i cavalieri della tavola rotonda le crociate le battaglie il santo graal insomma c'è dentro tanto tanta poi tanta umanità perché con Stefano mi hanno dato a questo nostro Parsifal una come dire una versione molto attuale e nello stesso tempo anche senza tempo ma è veramente un progetto speciale e importante il mio compito è quello che sto lavorando da mesi con questi miei compagni di viaggio e che cerchiamo di portarlo a debuttare il prossimo anno questo per me è il modo migliore per ricordare il nostro Stefano che ci teneva veramente tanto e rappresentava questo nostro lavoro come un vero nostro patrimonio importante anche perché più importante di questo credo che sia veramente molto molto difficile e allora anche per questa ragione sto facendo veramente di tutto realmente di tutto per per debuttare per cercare di debuttare il primo possibile compatibilmente con quello purtroppo che ci sono tutte le restrizioni però insomma è logico pensare che 2022 possiamo credere ma non solo la musica e i concerti ma a qualsiasi livello si ritorni veramente a quella che è la nostra vita tutti i giorni esatto a proposito di musica e concerti voi ne avete fatti tantissimi qui in Sicilia io ricordo da Taormina ma proprio lungo e lato per la Sicilia ecco qual è il tuo rapporto con la nostra isola il rapporto con la Sicilia parte da da veramente lontano perché il primo tour noi lo facciamo veramente in Sicilia nell'estate del 66 tu erano nati da pochissimi da pochissimi mesi e già noi c'è stata questa possibilità di fare una serie di concerti proprio in Sicilia figurati è il legame con la Sicilia è veramente molto 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 forte abbiamo dei fan che sono di me fans che sono poi diventati degli amici veri perché in Sicilia abbiamo fatto oltre 260 concerti solo in Sicilia per cui in 50 anni d'accordo però sono comunque un record io credo che siano pochi gli artisti che abbiano fatto nella vostra meravigliosa terra così tanti concerti questo è dovuto al fatto che il legame con la Sicilia con gli amici fans siciliani è sempre stato molto 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 forte un'ultima domanda prima di salutarci chi meglio di te può rispondere qual è il consiglio che ti sentiresti magari di dare ai giovani o comunque a chi si vuole avvicinare al mondo della musica visto la tua comunque pluriennale esperienza certo diciamo che oggi è chiaramente risaputamente tutto molto molto difficile il nostro mondo è sempre più difficile farsi strada cercare di di fare così un percorso che possa diventare importante è veramente molto difficile certo già è difficile se uno non ha non sente dentro veramente quella famosa spinta vera profonda forte quella spinta è quella passione che non ti fa dormire ecco questa è la grande differenza che che non si riesce a pensare a a nient'altro che è in cima ad ogni pensiero qualsiasi cosa che tu faccia questo è poi chiaramente non basta la passione ci deve essere anche il talento perché ecco capire se realmente tu hai realmente delle cose tue da dire no e quella forma anche creativa che ti permette di essere anche particolare di avere quella particolarità che si contraddistingue rispetto agli altri artisti ecco arrivare a fare qualcosa è arrivare ancora a fare successo le componenti sono veramente tante io ti dico come può arrivare la canzone bella ma non basta ci devono essere un po' delle cose che ti ho detto poi tantissima la credibilità la particolarità la passione il talento però è anche vero che questo lavoro io ho tantissimi amici soprattutto i giovani che penso a me credono che fare musica uguale successo ma non è così perché ci sono tantissimi musicisti che riescono comunque a ritagliarsi uno spazio importante che gli permette di vivere sicuramente come se fossero impiegati in banca la sola differenza è che facendo musica fanno la cosa il mestiere più bello del mondo ecco però le componenti che vi dicevo appunto prima ci devono comunque essere importante mi rivolgo ancora ai giovani non è vero che fare musica significa fare successo fare musica significa perché hai una passione perché hai talento e puoi benissimo suonare in una band e se hai tutte queste caratteristiche puoi benissimo fare questo lavoro certo non è comunque facile non è comunque impossibile dipende da te esatto noi siamo giunti ai saluti prima di andare ad ascoltare cosa lascio di me io per quello che mi riguarda finora conoscevo solamente l'artista sotto il punto di vista musicale oggi invece Robby Facchinetti mi ha lasciato proprio qualcosa di emozionante questa chiacchierata mi ringrazio quindi grazie ancora Robby per essere stato qui con noi e spero che 2022 scenderà in Sicilia e ci vedremo di persona sicuro questo figurati cioè ci verrei a piedi se mi dicessero che fra che ne so fra un mese 20 giorni o due mesi forse questa possibilità grazie a voi invece dello spazio che mi avete dedicato un saluto particolare a te e un abbraccio a tutti i miei amici siciliani e non